Bene, siamo pronti, abbiamo curato il tizio Dovremmo essere pronti Abbastanza pronti Forse potrebbe avvertire le altre unità Potrebbero avvertire Fratello Lungren Tu devi morire assolutamente Assorbito, vaffanculo Grazie a tutti Ok, non c'è altro. Ok, chiamo al pirugull. Pensavo di ucciderlo subito quel tizio invece. Pensavo veramente di ucciderlo direttamente e invece mi è scappato, è fuggito. Oh, caduto giù quattro danni in più. Bene. Gli ho dato armature. Gli ho dato. 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 Questo è solo il gusto dell'uomo antico. Overwatch. Guarda. Bene dai, ho capito solo Borming. Va più che bene. Dai che stupidi che entrano uno alla volta e entrano... ...stupidissimi o... Pazzi entrare uno alla volta così quando sono super camperato. No. Ok. Siiii. Che male. che male me lo ha uccido però se va adolà adesso lo uccidiamo è morto il caro armato su serio beh giustamente lo potenzia di un sacco ma se uccidiamo quello che lo potenzia muore anche l'altro figata meno male che l'avete fatto sono stracontento di ciò protezione minore va e poi siamo mai arrivati quasi al massimo però mi piace meno male ci siamo tolti uno da 30 di vita tutto bene molto ma molto bene da questo combattimento è andato a meraviglia perché sono andati tutti in fila in piano uno alla volta quindi non posso lamentarmi chilo indossa immune attacchi da carica 3 6 di vita bestiale qua cominciano ad arrivare le armature quelle potenti arrivano mimir 0g 08 quelle potenti la serie g come ho trovato il mirino bello potente roba così in uno dei danni mune ma vabbè mettiamo questo molto bene abbiamo ripulito completamente la zona qua casa hanno messo mimir 0g 08 320 cos'è questo g j r 6 6 già a livello 3 o no può distruggere ogni riparo ma questo è un cecchino bestiale è quello che è andato al mimir cr 33 critici e portatemi questo è veramente buono questo è veramente buono questo è veramente buono e le armi da e le armature da end game ma c'erano già potenziati qua quindi allora il nostro suino secondo me ha portato armi 30% mettiamo uno di questi probabilità di critico è alta probabilità di critici probabilità 10 la potenziamo a 30 con quello di selva e potenziare a livello 3 non l'arma principale ma la pistola c'è boh 7 14 21 riesco a neanche uccidere un gull normalmente quindi io adesso i componenti dell'aria me le trarrei così sinceramente e siamo nel covo del diavolo cornuto cos'è la base dei gullo questo non lo so e non lo so questo non lo so non lo so se non lo so no 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 mi sa che questa è la zona dove c'è un boss qua boss pesante ho questa leggera sensazione veramente non mi piace questo effetto la zoner chiedeva il livello 45 però boh troverò ancora uno di quei robot giganti ho due zampe che sembrano bestiane in realtà facevano cagare distrutti immediatamente rotami bene più rotami è meglio è kit medico spero di trovare un'arma endgame quella da 480 sicuramente la troverò sono molto sicuro di trovarlo basta rambini minmir z6000 z600 si sta isolando sto scemo si sta isolando diciamo l'ho fatto perfetto non è meglio che Io do un po' di vita, tanto ne ho di medikit La pochè mamma secondaria devo andare di pistola Quando posso andare di rambino che fa molto più danno Tanto non esso iniziato quindi Ehi, seguimi Mamma mia che crittone Ho fatto, figlio Che crittone che arrivano adesso Il livello 51 Mamma mia stiamo salendo L'endgame è veramente Trovando certe robe veramente sbilanciate Nel senso che sono veramente potenti Un accampamento Un'attacco di un'attacco di ucciso Il giro del dottor Non ho mai visto il dottor Ma ho sentito che c'è una gara Pagliando la foto sulle Il dottor del dottor Non è un'attacco di barca Il dottor dottor può farmi Questi dottor Questi dottor Ci sono giocati Con i sbagliari Non possiamo farci Iniziamo un'attacco Questo finisce Qui Ora Hanno punzecchiato, proprio quello che io adoro, il termine punzecchiare E' nuova, però non mi piace, spero che non si risvegli quando me ne vado perchè mi distrugge Proprio sopravvivenza estrema Proprio sopravvivenza estrema Sto spaventando Davanti sicuramente non ci andiamo così a kamikaze Facciamo il giro da dietro e eliminiamo quelli dietro di lui piuttosto I ghioli hanno loro una macchina di loro Grazie all'Elder che è senza potere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccolo! Eccolo! L'hai risvegliato! Uuuuh, il Mimir Z600 è con me! Vai, lo sapevo! Che schifo! 50, 50, 50! Uuuuh, capo grigia! Morta! Giusta, giusta! Che stai facendo sti idioti di cosa? Che stai facendo! Nooo, non con l'amore! È così buono come morto! Morto! Mi, mi, mi! Molto stacchi! Bastard! Che madre! Non è mai che mi tolgo dal mezzo se no robot va verso di me! A quanto pare! Mi trapassa i muri! Che stai facendo! Che stai facendo il caso!! Unilogo! mmmm mmmm ha sparato a selma ha sparato a selma be calm, i can ease your injury oh interesting inefficient i can't shoot the other i can't shoot the other this is very bad No, è immune al fuoco in realtà quel coglione. Sono già a fuoco, scemo. Stanno massacrando. Ok. 1 di tiro. Di 5. Che male. Il carro armato fa veramente male. Il carro armato fa veramente male. Il carro armato fa veramente male. Ma è molto forte. Questo mimi muore adesso. Ha v8. Eh non muore ancora. Ha v8. Ha v8. Ha v8. Ha v8. Ha v8. Ha v8. Che f8. So, non mi sono immaginato. Ma è disponibile. Che f6. Questa è un messaggio che fa, Ma ha sparato a tutti? Non ho capito Grazie a tutti non sei scemo è solo lui Non ho neanche fatto mangiare a Bormin la roba Non glielo neanche fatto mangiare la roba Ma quindi il capo grigio non aveva niente il capo grigio qua E' il generator Mano fatti più 4 Gente illegale più 4 di manofatti così Mi ha fatto pure 3 livelli Però volevo quest'anno guarda L'arma no Questo non è del capo grigio Non mi ricordo più dove ho deciso il capo grigio Che cavolo è Fascia Borg B4 raggi a movimento Che cavolo è Penso sia una fascetta da mettere in testa Immagino Grazie a tutti Grazie a tutti